E' stata presentata in residenza comunale l'iniziativa Fellini Anno 2013, anteprima del diciannovesimo anniversario della morte di Federico Fellini. Presente il sindaco dei Rimini, Andrea Agnassi, e l'assessore alla cultura Massimo Pulini. Ci aspetta un anno di iniziative, abbiamo cercato anche proprio un logo che definisse, che marcasse, che sottolineasse tutte le iniziative che riusciremo a fare durante l'anno, a partire da queste che contengono un aspetto simbolico di grande importanza che è quella dell'esposizione all'interno del museo della città del libro dei sogni. Quest'anno lo Scicco Bianco e Roma compiono rispettivamente 60 e 40 anni. A queste ricorrenze sono dedicate le giornate del 29 e naturalmente del 31. Due appuntamenti che anticipano e avviano un 2013 affollato di coincidenze feliniane, il ventennale della scomparsa del regista riminese e gli anniversari dei vitelloni e di agenzia matrimoniale, episodi di amore in città, di otto e mezzo, di Amarcord e della nave va. Una successione di occasioni che il comune di Rimini intende da qui alla fine dell'anno prossimo, onorare o festeggiare con una serie di iniziative, proiezioni, concerti, rassegni e spettacoli, mostre che saranno combinate e promosse sotto la sigla di Felliniano 2013. E' un'altra cosa che si tratta da qui alla fine dell'anno prossimo, che si tratta da qui alla fine dell'anno prossimo,